Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Cucina da Rosie dunque, ma come spesso accade, ognuno ha poi i suoi piccoli trucchetti. Quello di Chin è decisamente fuori dal comune. Ecco come è stata scoperta mentre cucinava la pasta. Lezioni di cucina di Rosie Chin, che spettacolo imperdibile. La concorrente continua a correre di settimana in settimana il rischio di abbandonare il gioco, ma fortunatamente continua anche a salvarsi. In queste ultime ore gli utenti si sono ritrovati a commentare ampiamente alcune strategie di cucina, alta. Ed ecco che il momento è diventato virale. Rosie Chin in cucina ha preparare la pasta per gli inquilini della casa più spiata d'Italia, ed è proprio il caso questo di dire che la geffina ha messo il suo tocco ad arte. Nello specifico le immagini del momento hanno generato l'Ilarit di molti. Chin infatti ha preso la pasta dalla ciotola con le mani per poi metterla nella padella. E le mani sembrano essere il suo strumento preferito anche per mescolarla. Insomma appunto il risultato è in parte deludente. Ma che schifo, dai! Avrà pure le mani pulite ma non si può vedere toccare il cibo così, tuona qualcuno sui social. E ancora, raga a mangiare quella pasta ti viene qualche infezione batterica. Insomma, forse qualcuno si è giocato qualche stella per il proprio ristorante a Milano. E quella persona è proprio Rosy Chin da cui molti non si aspettavano questo scivolone. Resta il fatto che piaccia o non piaccia, ognuno ha il proprio modo di gestire l'arte dei fornelli. E probabilmente dello stesso parere di alcuni utenti sarebbe anche Beatrice, con cui Chin ha avuto diversi confronti accesi. Il video della diretta del GF nel corso dei preparativi della pasta ha fatto il giro del web e in pochi lo dimenticheranno.